In questi giorni è arrivato un avviso di garanzia al nostro sindaco Arturo Cerulli per diffamazione per un manifesto utilizzato in campagna elettorale dove in questo manifesto si parlava di mafie di terra e di mare. Ora il nostro sindaco assolutamente non rinnega quello che ha scritto in campagna elettorale, tra l'altro da lui sempre firmato e comunque non è che intendesse per mafie di terra e di mare quelle con la lupara. Si è sempre anche spiegato che come mafie di terra e di mare si intendeva perché si percepisce nel territorio il fatto che alcuni cittadini, che alcune situazioni non si sentano tutelati o comunque equiparati ad altre. Questo è il nostro modo di lavorare, noi sin dall'inizio, dalla prima volta che abbiamo vinto le elezioni, il nostro sindaco ha sempre sostenuto questa battaglia per la legalità e ha sempre cercato di sconfiggere queste mafie, queste situazioni che si creavano in cui magari alcuni interessi di alcune persone sembravano essere in qualche modo avvantaggiate rispetto ad altre. E questa è comunque percezione del territorio, non certo una percezione del sindaco o della nostra amministrazione. Dal territorio veniva fuori questa richiesta che noi l'abbiamo sposata in pieno, ciò abbiamo fatto la nostra campagna elettorale nella prima volta e la seconda volta anche in funzione di quello che avevamo poi portato avanti nella prima registratura ciò ha fatto modo che abbiamo stravinto le elezioni portando a casa un consenso del 60%. Non le sembra che l'avviso di garanzia è arrivato in un momento un po' strano? No, questo non lo crediamo, non lo crede il nostro sindaco Arturo Cerulli e non la pensiamo anche noi in questo modo. A noi ci sembra più non accettare la sconfitta, cioè non starci. Le persone che hanno firmato perché sono state firmate da Azzelio Bagnoli, Anna Poggioli, Michele Vaiani, Viviana Lauro e Danilo Cerulli. Queste persone che hanno firmato questa denuncia nei confronti del nostro sindaco Arturo Cerulli sono invitate nella prossima assemblea pubblica che terrà il nostro sindaco in quanto lui è candidato alle europee quindi in occasione di questa assemblea pubblica invita le persone che hanno firmato questo documento proprio per esporre, cioè per difendersi. Non credo che faranno i vigliacchi che denunciano il fatto e poi non si presentano a sostenere perché si sentono in qualche modo accusati da questa frase in questo volantino. E magari in quell'occasione potremmo anche, cioè è idea del sindaco, proporre una sorta di mini referendum dove chiedere alla popolazione o a chi comunque parteciperà a questa assemblea se effettivamente si percepisce o si percepiva, perché secondo me si percepisce molto meno in questi ultimi sette anni l'idea di essere magari meno tutelati di altri, di avere meno opportunità di altri. Quindi in questa assise loro avranno modo di difendere le loro posizioni e magari di dire perché anziché fare politica in un altro modo, magari proponendo il loro programma perché io spero che anche nelle ultime elezioni, quelle del 2013, loro avessero portato un programma che possono comunque sostenere anche nella loro funzione di opposizione.